Share a moment with me, dice Aatrox. Share a moment with me. Bel bug, mazzarinen. È da un po' che non gioco, quindi potrei essere un po' un po' inelastico. Vediamo. Bici a TP, noi no. Un po' un casino, eh. Un po' un casino. Oggi per ragazzi c'erano una streaming cortina, ma lo stimerò fino alle 18, 18 e mezza. 18 massimo, penso, comunque. Ah, ma vedete se è uscito Toffa e Nuke, ma che ce lo vediamo pure in live, se no. Vedete un po'. Mi sto riliempendo un po' la mano con la streaming che poi stasera devo giocare a poker. Toffa e Nuke. Bro, è uscito Toffa e Nuke? Tocca a vederlo. Tocca a Toffa e Nuke dopo. Guardiamo se faccio questi 4 o 5 game. Scenio solo. Ma hanno cambiato i caratteri del... Io non ho letto le patch, eh. Ma hanno cambiato i caratteri del coso. Gli hanno cambiati. Non vedete questi bitcoin che tirano ma un nuovo massimo storico di nuovo? Come li vedete? No, non stream a poker, chiss. Sono venuto ieri pomeriggio, non è che mi sono trovato tanto bene a stream a poker, in realtà. Ovviamente farò altre prove, sempre di pomeriggio, poi vedremo. Il black mist won't hurt anyone. I promise. Ok. Ma pure lo top è chi ha la giungla? Ora, questo game riguarda pure di... TF. Siamo forti contro TF, eh. Come campione, dico. Buono. Buonissimo. Si muove sempre forti dopo le 215 stack. E ancora non ho capito che fa quel campione, mi ci guarda lì. Bel trade, questo. W. Usa la pozione perché non penso sia top viana, però. Non penso sia top viana. Non penso sia. Buono. buono very good, regaliamo lì c'è il tp però la wave non è messa troppo male tp atrox, buono buono lui ha iniziato pure di cool non so per quale motivo un po' hinting sinceramente meglio per noi non c'è bisogno di torno a full hp perché tanto tempo che tornamo il n si refullano l'hp va bene, buono 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 peccato che chiana non è morta lì però chiana ha flashato buono, ma se il coppio è un bel vantaggio da ghiana doppio grab siamo messi molto bene anche benissimo ce la tagliamo qua questo mignolo perderemo, va bene, non è un problema ok buono un bel trade questo è buono perché lui non c'è il tp e noi faremo il secolo la prossima wave chiana dovrebbe essere bot side questo è veramente un ottimo trade per noi perché se lui rimane qua rischia di morire quindi giriamo slowly slowly prima che l'arte uscio così si esatta meglio la wave buono, ho quattro medaglie i minion sto facendo perciò che lui siamo messi veramente bene dove cazzo ho tirato? dio santo mio meodeu buono vado via vado via ciao vale buono very good very very good questo puoi c'è questa wave buono veramente buono scarpettine altro libro come sempre non ci bisogna usciamo pure l'hp buonissimo buono allora dopo ristmaker cosa possiamo buildare? dopo ristmaker contro l'atrox chiana quelli là possiamo buildare penso serve l'hp comunque serve l'hp la punita è ancora l'hp quindi non builderei sinceramente la Nashor cosa può buildare ragazzi che dà p e hp che non sia la zone perché la zone non la build come terzo voi sicuramente magari lo conoscerete più di me il Nashor il Nashor mette su 2 serve sempre ho avuto questo presupposto c'è chiama qua ma il morello mi sa che dà hp il morello lo dovrebbe dà hp si non ci vedete che mi è scaduta la ultimate quello sinistra flash vabbè però il morello mi sembra che è dhp prendere il morello è che è forte solo contro adrox è come se la missione a se me manco ci serve capito non facciamo l'ignite intanto decidiamo noi quando ingaggiarlo tendenzialmente prende strata plate very good buono mi si molto molto bene dovresti guardare ma vediamo ecco chi ha ne manca un'altra pink vediamo ability power e il cosmic il cosmic non è male anzi penso che contro quel team però vorrebbe databile il cosmic potrebbe non essere male hp ap e east che buona verasino oro atrox povero atrox che cazzo ecco la cosa la città e benvenuto nei cani di cani la chi e io Signor Sinopio, grazie mille su tre mesi Li benvenuto nei cani cani Sir, welcome back E Mr. Leonardo 96 con il tier 1 Tu no, tu no, tu non so Cerchavi un modo per proteggermi Non so che canzone sia bro Signor Leonardo, sei sotto un cielo sbagliato Questa me la ricordo un po' di più Grazie mille, signor Leonardo Tier 1, 39 mesi, 19 di fila E altri benvenuto nelle cani cani Non so che canzone sia bro Tu no, tu no, tu no Tu sorridevi, cercavi un modo Ma chi Ma è Dove ho detto il tiktok? Magari mi ce l'ho in mente, no? Adesso si può giù Detta così proprio Non mi dice niente Il canto del maestro Geno è morta Non so dove sia Aatrox Eccolo qua Aatrox, che fai qua? Mie che ce lo sta Boh, ma che fa Aatrox? Mietradda? E' pazzo Ultisenna pure Qui potrebbe venire in chiama topside Infatti è rischioso di rimanere Però io sono pazzi Che ne bocca C'è mancato lo Sunway E poi? Tipi Aatrox Rift Mega pronto Il blu ha tiltato Ce l'ha di affinare il Batch Mate Davvero? Adesso non l'ho ancora visto Aatrox è un bello tilter Ma poi che? Ma che stai stabilati I amat Ma che Farono Scythe Andiamo di Cosmic Va Moment Speed HP Mai male Bella Manu Un po' esagerato La nostra storia Un po' di... Lei te si è presa Zito zito Bella Ammonia Lascia stare le scritte E mica meno dopo Alpha Giorno giorno Mi sta pullando Guarda che carino Che cazzo Ho pure da dirlo Collate No Ghost No Fan Ieri alla fine Abbiamo fatto Meno 49 Ammon Buono Regaliamo che non ci abbiamo mana Allora se siamo fatti potremmo beddare pure la zona app in sto game Ci prendiamo un po' di mana Ma non moriamo più Cioè più per dire Non moriamo proprio più Che dite voi? Voi stanno arrivando da Georgia E' una specie di multiverso Stanno insieme alla Desire House Ricky Fries Georgia Al Rannis E Dara Kree Per cosa? Non so cosa Se lo vedo sono a bussi dice Se l'ho trovato la ultima Sembra se ha girato la drox Ti ho fatto un'illicobi Ci ho fatto un'illicobi bro No Oh E' un'illicobi No Sì Non 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 no e niente un'altra volta scurato questo t2 presa, tocca prendere il bot 1 oddio Amon oddio Amon non che ci sta per la frozen heart comunque è uscito quindi ci vediamo e se lasciate il mino c'entrò solo per far sentire una troia cattiva ragazzo da troia mamma ne sembra un paese esagerato ui sbappo ragazzi qua mi li fai distruggire tutti se la buildo eh volete le scherzate la buildo era in fitto diciamo tutti io me la buildo eh nei pussi non pussi non me la gioca un cazzo just good la builda beh Amon effettivamente noi se facciamo frozen heart non facciamo zonia poi no 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 l'avevo preso, l'avevo fatto il casino qua baron? no, late forse no, no, dobbiamo la giungla allora ci sta a non fare baron, però almeno la giungla dobbiamo prenderla poco m'assicuro andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, va benissimo va benissimo così, Tratenart pronto, bella nebula, muori già anche a te bro comunque volevo fare auguri a Lumia, per oggi, per la festa delle donne oggi lei per non dare la morte del creatore di Dragon Ball si mette a salvezza e l'ho trovata dopo di pasqua super il culo, esatto, esatto, grazie Akira grazie Akira che è calza che è giù l'ho oh, questo è un po' Buono Adesso sto a pusha tutto Quello che non ci sono a testa per le teste di cazzo Peccato venite Peccato sì Già da malissimo sì, ho già da molto male questa Brava Wey brava But how it feels matters more Warm Safe Like nothing can hurt So since deep Che è il tale eh Facciamo la prossima wave Keep pushing T-top mi ha perso tutto Eh mate ma parteci però in teoria la solo Q Challenge di Trenas Quindi Cioè perlomeno mi ha mandato il forte, non lo so Non so neanche cosa posso dirlo Però penso di dirlo Comunque Devo cercare di Di giocare un po' di campione qui Sì Sì diciamo che facciamo la solo qua Un account di bronzo così la vinco Bisognerebbe far qualcosa qua questo drago Oggi vappiamo Senza zogna non è che potrebbe essere altre cose Bravi John Sto zogna io qua Bella Bex George ha detto che ha progettato le donne e le regali Il cazzo ha tornato di mimosa È corretto? Niente C'è solo un problema Che lei sta a Milano e io sta a Roma Quindi mo Non so di che cazzo si parli ma Sicuramente Niente non è nemmeno Credo che il live L'ha detto Ed ha espresso una soledà molto fatta Ricordo di questa challenge Per quanto riguarda le Due decreti E che ha detto? What? Eh dico Rumia ha detto una cosa E io ho risposto Oh Rumia sta dando delle cose false Grazie Dario sei gentilissimo bro Sono entrato ora A Rumia ha scritto George mi ha detto che per la giornata delle donne Le regali il cazzo Adornato di mimosa È corretto? Io gli ho risposto Rumia Io Ora non lo so Perché ho detto George sta a Milano Io sto a Roma Il cazzo non penso sia il mio Rumia è un verme Rumia è un verme ragazzi Quale poco mi assicuro Oh Tentata Tentata È una cazzata lol È una cazzata Tra l'occhio challenge Che divido le due classifiche Dice? Trick Su me non è una cazzata Su me è da restare Cioè l'altro anno Hanno fatto così E su me tutti gli streamer Comunque erano Basta la classifica Sono risultati molto Nascosti No? Diciamo Invece così Facendo così Dai spazio Alla possibilità di Di far conoscere Novi streamer Secondo me E poi vabbè È una cosa da provare Tanto mica sarà l'ultima Perché quando mi arrivato oggi Non era tua Oddio Io non ho detto questo Infatti Dovrebbe Dovrebbe saperlo riconoscere Bravo Rumia Bravo Rumia Oh Madrox Porco Dinci Aatrox Ma questo vale vince il game Ho trovato io qua Colpa mia Se ti ha inviato una Gave per l'elicottero No Non è sua Andiamo Andiamo Oddio Ma tu non stai a lezione Georgia Abort the mission Ok quindi non è finito Va bene Va bene Il cazzo deve essere passato Allora Buona elezione A sto punto Per togliere le lezioni di dubbio Controlla quanto Pisa la foto Bravo In base al numero esatto Capisci se Bravo Bravo Tu mi sembri un bel genio bro Tu mi sembri un bel genio bro Tu mi sembri un bel genio bro Caproia Come spinge Giana Drago Non ce la fanno mai Mette tra 16 mesi di servizio in questo canale Io ho perduto un paio di cose direi Bravo 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 Bex Adrox Raga Non va giù Insegnate Morgana Che fai che dà che fa uai Rai un bel amore Rai un bel amore Grazie a tutti. Impatto d'Hopping, oddio! Oddio! Ai ai ai. Molto stupidissima questa. Oh, che verigliela. Rosa. Sto che metto sto, eh? Sì, vedo Shadowflame, penso. Com'è che... Moreno non da manca il cappino. Ma non lo puoi contro Chabrood, scusa. Contro nessuno del loro team. Bada trabbato. Sì, a scalare non ho scalato. Ancora poco, ma sicuro. Ma burla da Dead Dance di Aatrox, cioè serve anti-eating, ma non posso buildarla io. Senna ha cura per iter, diciamo. Non è una cura che ti impedisce di vincere il fight, augurale, Senna, diciamo. Vai a difendere qua, vai a difendere qua. Vai qua, vai qua, dove vai, vai qua. Mi puoi sprofusciare con la mitia, almeno. Ai ai ai. Pischello con il raidino, fagli vedere chi è il Top King. A Pischelle, grazine del raid. Fate uno shout-out al Pischello. Andata bene la live, bro? E qua più che Top King non gioco da due settimane, quindi più che Top King, mate. Il casino qua. Spero si è andata bene la live, bro. Pena andremo a pushare con il loro Baron Nashor. Non ci muovo. L'avvento contro Caliste è meglio chiudere la live e flesteggiare, giusto? Non so chi sia, bro, perché c'è un prota, come l'hai detto. Questo è buono, eh. Questo è buono. Ti becca. Non mi è piaciuto da passare. Tocco la dentale, ragazzi. Voglio. Porca puttana, troia. Trollato. Questo ma di timing. Giusto con 1600 LP a lunga. Minchia, sull'unghia. Ogni tanto passo dalle vecchie glorie. Old glory. And Top die here, and ice, very nice. Bro. I have a death. You have eight. Scala e pack up. Tu c'hai, sì, c'hai 3S per la sua più challenge. Immagino, se vuoi la stessa parte sali, challenge. Bello, bro. Potremmo pure chiarare tutti. Oh, che giro. Buono, buono, va bene. Andiamo. Buono, buono, va bene. C'è uno solo bot, ma dopo che rinascono gli ultimi teammates. In teoria. Devo mostrare C, a meno che Adrox non c'è. Ma è mazzo troppo luogo, comunque. Dove ce la fanno più in game, eh? Ce la fanno sì. Gb. All righty. All righty, ve lo giro molto meglio. Abbiamo pazienza bianca? Sì. Lo giro molto, ma molto meglio questo game. Gio è un po' toxic, bro. Mate, forse per me, che avessi un'ascia, per decidere se Zero dovesse vivere o meno, lo uccidere se tu distante. Grazie. Grazie.